Buon pomeriggio dal Tg della Mobilità. Di nuovo in funzione il sistema dei varchi delle ZTL di giorno e di notte. Oggi centro storico chiuso sino alle 18 e poi dalle 23 alle 3. Nel Tridente varchi chiusi sino alle 19 oggi. Questa notte chiuse dalle 21 e 30 alle 3 le ZTL di Trastevere e di San Lorenzo, testaccio dalle 23 alle 3. Le altre notizie in piazza Augusto Imperatore si ampli all'area di cantiere per i lavori di riqualificazione del mausoleo della stessa piazza per lasciare spazio ai lavori. La linea bus 913 si sposta nell'area di capolinea della 301 sempre in piazza Augusto Imperatore. Sempre in centro ancora chiusi ai veicoli pesanti via Palestro tra via Cernaia e via 20 Settembre. Otto linee bus sono deviate di giorno, di notte cambia percorso la N66 termini via Le Marx. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti come sempre si possono seguire anche sul sito muoversieroma.it e sul profilo Twitter Roma Mobilita.